Si riparte con la didattica online al 100% e non senza polemiche, non solo per l'efficacia dell'insegnamento e le sue oggettive difficoltà. È vero, resta la possibilità di svolgere in presenza le attività laboratoriali, le verifiche scritte, le lezioni per gli alunni con bisogni educativi speciali e per quelli che hanno difficoltà di collegamento telematico dal domicilio. La misura si rende necessaria per contrastare lo sviluppo della pandemia, partendo dal dato che la diffusione avviene sempre più nel nucleo familiare, con virus portato da fuori, spesso anche dalla scuola o dal trasporto scolastico. L'ufficio regionale conferma una maggiore circolazione virale e un incremento costante di contagi a scuola, con almeno 555 casi di positività su studenti e 183 sul personale. Alle fasce deboli della popolazione scolastica è mantenuta la possibilità di proseguire l'anno in presenza. Non si è fatta però attendere la reazione sindacale. Lo snalz ad esempio contesta la mancanza di obbligo di mascherina quando studenti insegnanti sono seduti o comunque fermi. Tutelare la salute, si legge in una nota, significa anche tenere la mascherina in ambienti chiusi. I più pericolosi per la trasmissione del virus e gli aerosol carichi di particelle infette si concentrano con il passare del tempo.